Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 172esima puntata del podcast di Marcos Box con il riassunto delle principali notizie del mondo del software libero open source e questa settimana anche con alcune contaminazioni riguardanti il mondo Microsoft. Ma di questo filone, questo segmento dedicato al mondo Microsoft, ne parleremo verso la fine della puntata. L'ho deciso di metterli tutti quanti verso la fine questi argomenti. Così se volete seguire la puntata, sapete che quando inizio la parola Microsoft potete skippare eventualmente o stoppare il video. Vabbè, quali sono le notizie di questa settimana? Notizie sono notizie interessanti che riguardano alcune notizie dal fronte di sviluppo di Linux Mint, di Elementor OS, di Fedora e alcune notizie riguardanti KDE Plasma, che è la notizia delle ultime settimane perché la scorsa settimana, come ben saprete, c'è stato il rilascio di KDE Plasma 6 e nella prima fase, si sa, come la tradizione, ogni volta che viene rilasciata una nuova versione di un qualsiasi software, un qualsiasi desktop environment, ci sono una serie di bug che vanno rimati, bug che sono sfuggiti al controllo dell'ultimo minuto e che in questo caso sono iniziati a essere stati fixati e corretti con il rilascio di KDE Plasma 6.0.1 la prima bug fix release di questo nuovo corso di KDE Plasma. KDE Plasma 6.0.1 include diverse correzioni tra le quali quelle più importanti sono alcuni bug che riguardavano KWin, il gestore delle finestre è stato poi risolto un problema con la chiusura delle finestre e alcuni problemi riguardanti i pannelli praticamente non funzionavano correttamente la funzionalità di modifica aggiungi widget. Il changelog completo di KDE Plasma 6.0.1 lo trovate linkato nell'articolo dedicato sulle pagine del blog. Come potete vedere anche dal video qui su YouTube io utilizzo regolarmente KDE Plasma nello specifico lo sto utilizzando su KDE Neon che è la distribuzione che io preferisco per quando si tratta di utilizzare KDE Plasma perché consente di avere le ultime versioni KDE Plasma quindi avere un sistema sempre aggiornato sempre come KDE vuole che sia. Nella fase iniziale ho avuto diversi problemi con KDE Plasma 6.0.1 su KDE Neon vi ho fatto anche un video la scorsa settimana con una piccola reaction a caldo su KDE Plasma 6.0 devo dire che con questi aggiornamenti che sono arrivati in questi giorni sia tra gli aggiornamenti che sono stati rilasciati da KDE da KDE quindi sia gli aggiornamenti che sono stati rilasciati dal team di KDE Neon quei bug che avevo riscontrato all'inizio mano a mano stanno per essere sono stati risolti quasi tutti resta soltanto un bug noioso riguardante che riguardano The Weeknd ma magari ne vedo per loro nelle prossime puntate perché quello è un problema legato principalmente al fatto che io utilizzo una scheda video Nvidia con driver proprietari quindi la colpa sappiamo a chi darla come la diede il nostro caro Linus Torvalds qualche anno fa anche se le cose i rapporti tra Linux e Nvidia più o meno stanno un po' migliorando vabbè fatemi sapere voi poi nei commenti se state utilizzando KDE Plasma se lo state trovando un desktop environment maturo con la versione 6.0 se vi piace se magari per voi ci sono alcune cose da rimare da cambiare nello sviluppo di KDE Plasma che magari facendo un brainstorming di idee magari potessero anche vedere di sottoporre i consigli della community di Marcosbox agli sviluppatori di KDE Plasma perché gli sviluppatori di KDE sono degli sviluppatori che non sono chiusi come quelli di Gnome che spesso e volentieri vanno con i paraocchi hanno la loro visione di desktop environment se fa così e basta quindi quelli di KDE devo dire che nel corso degli anni ne ho visti parecchi ne ho conosciuti parecchi via in diretta non via personale e vedo che sono sono molto aperti al confronto anche per queste cose quindi magari da cosa nasce cosa comunque passiamo adesso ad un'altra notizia e passiamo a parlare di Fedora Workstation 41 la prossima major release di Fedora che a quanto pare non avrà la sessione X11 preinstallata quindi stiamo parlando di Fedora Workstation è l'edizione principale quella con Gnome verrà rilasciata senza la sessione Xorg installata per impostazione predefinita quindi si spingerà in maniera massiva verso l'adozione di Wayland questo significa che gli utenti che vorranno poi continuare a utilizzare la sessione Xorg dovranno installarla manualmente perché fortunatamente sarà ancora presente all'interno dei repository di Fedora non si sa per quando perché a sto punto mi viene da pensare che la 42 di Fedora direttamente abbandonerà la sessione Xorg se tanto mi da tanto sapete bene che il team di Fedora spinge molto verso l'adozione di nuove tecnologie e lo sta facendo ormai da diverso tempo perché sta spingendo con Gnome sta spingendo con Wayland quindi secondo me sarà lì la prima distribuzione che andrà per i fatti suoi dicendo ciao ciao Xorg lunga vita a Wayland ci saranno altre distribuzioni quali saranno le prossime distribuzioni che faranno questo importante passo secondo me secondo me quella che la prima che si adeguerà a carruzione sarà proprio canonica con le prossime versioni di Ubuntu quelle semestrali ma vedremo vedremo passiamo adesso invece a parlare di Linux Mint con il solito recap del dedicato allo sviluppo di Linux Mint come saprete Clement Lefebvre che è il patron di Linux Mint nonché il sviluppatore principale di Linux Mint di Cinnamon di Dexter Permanent sviluppato in casa Mint ogni mese fa un recap mensile con tutte quante le notizie riguardanti lo sviluppo sia di Linux Mint che di Cinnamon dandoci anche un'anteprima di quello che vedremo nelle versioni successive e nel recap del mese di febbraio ha pubblicato una notizia riguardante l'arrivo di una nuova X-App le X-App sono una serie di applicazioni sviluppate in casa Linux Mint che servono come applicazioni desktop environment agnostica quindi che siano che sono di fatto tutte quante applicazioni che sono compatibili con Cinnamon che sono compatibili con Mate e sono compatibili con XFSA che sono i tre desktop environment attualmente supportati da Linux Mint che si e che quindi si integrano alla perfezione con i vari desktop environment bene Clement Refebbraio ha annunciato l'arrivo di una nuova X-App come vi dicevo che si chiamerà Jar come si aspetta lo devo pronunciare alla francese Jargonaut spero che si pronunci così alla francese che cos'è Jargonaut è una specie perché non è proprio un client un client IRC puro cioè una specie di client IRC che verrà introdotto su Linux Mint per sostituire ex eh sì buonanotte ex chat oggi mi incarto particolarmente con le parole ex chat è il client IRC che è preinstallato sulle ultime versioni di Linux Mint che però è stato dichiarato discontinuato dal suo autore Patrick Griffin qualche giorno fa e quindi il team di Linux Mint ha deciso di cogliere la parola a base di scrivere una applicazione da zero che sia però un'applicazione che deve andare a essere calibrata per le esigenze di Linux Mint quindi un'applicazione che deve essere scritta in GTK3 che deve essere compatibile con l'HIDPI quindi e che deve poter essere uno strumento utile a chi installa Linux Mint per poter avere anche una specie di dialogo di supporto con la community di Linux Mint la nuova applicazione sarà supporterà anche altre funzionalità quindi supporterà il past bin e i image year tramite i drag and drop ci saranno anche la risoluzione dei problemi integrata quindi per poter dialogare direttamente dicevo come dicevo prima con il team di Linux Mint e altre funzionalità che poi vedremo più in là ovviamente è disponibile su github e quindi il codice è aperto a tutti se volete contribuire se volete testare potete farlo e che dire il team di Linux Mint fa sempre queste cose prende prende applicazioni le forca magari perché spesso e volentieri prende codice già presente da altre applicazioni e va a ricucire tutto per la propria distribuzione e per il proprio desktop environment vedremo se a Gungandar riuscirà il team di Linux Mint a gestire tutti questi progetti che sta mano a mano in globando all'interno di Cinnamon e della distribuzione ma comunque sono bravi quelli di Linux Mint di solito a fare queste cose riescono a mantenere le promesse e sono anche decisioni che sono supportate dalla loro comunità quindi di solito non fanno mai il passo più lungo della gamba parliamo adesso invece di un altro desktop environment un altro desktop environment scusate vi dicevo stasera mi sto impappinando con le parole sarà la stanchezza che è solo le 11 di sera parliamo adesso di un altro desktop environment molto interessante che negli scorsi anni assieme alla distro che equipaggio questo desktop environment è stato anche oggetto di diverse diverse discussioni all'interno del mondo del software open source perché ci sono stati diversi utenti che subito si sono innamorati di questa distribuzione di questo desktop environment altri invece che sono stati un po' dei detrattori il desktop environment di cui vi sto parlando è elementary OS Daniel Forella fondatrice e CEO del progetto elementary OS ha pubblicato sul blog ufficiale della distribuzione un nuovo aggiornamento sullo sviluppo di elementary OS 8 la prossima major release di questa distribuzione e ci ha fatto vedere quali sono le novità principali una delle novità su quali si stanno lavorando sono sulle impostazioni di sistema perché stanno facendo la migrazione alle GTK4 di tutto quanto il desktop environment e il porting alle GTK4 delle impostazioni di sistema adesso finalmente completato con l'aggiunta del porting delle impostazioni per lo schermo per la rete per la stampante sono state migliorate inoltre tutte le impostazioni dell'alimentazione ad esempio con l'aggiunta della visualizzazione del livello di carica dello stato delle batterie interne proprio ce ne fosse più di uno non ho capito non ho capito bene questa cosa secondo me l'hanno implementata semplicemente perché si poteva fare hanno fatto alcune migliori per la schermata di accesso e di blocco la dock la dock che come vi avevo detto qualche puntata fa del podcast è una dock che è stata riscritta perché la precedente dock è stata discontinuata perché non supportava il GTK4 quindi anche il team di ElementariOS si è dovuto metterli a reinventare riscrivere una dock che funzionasse per il proprio desktop environment la nuova applicazione è completamente GTK4 c'è sulle pagine del blog vi ho fatto vedere anche un video che vi fa vedere un po' le animazioni come funzionano come funziona questa dock come sono gestite le animazioni con alcuni esempi e poi è stato completato il porting al GTK4 di App Center che adesso oltre aver consentito questa migrazione la correzione di diversi bank neanche ha migliorato le prestazioni perché il team di ElementariOS ha deciso di togliere dall'App Center dal gestore applicazioni di ElementariOS ha deciso di togliere la funzionalità di aggiornare il sistema perché gli aggiornamenti di sistema sulla prossima versione di ElementariOS verranno gestiti direttamente dalle impostazioni di sistema quindi tolta questa funzionalità dall'App Center il programma ne è aggiornato in termini di prestazioni e chissà perché poi hanno deciso di fare questa cosa qua perché non la trovo una cosa interessante era meglio a mio avviso gestire con un tool a parte hanno deciso di fare come i sistemi operativi quelli proprietari di mettere gli aggiornamenti tutti gestiti all'interno delle impostazioni odio dal punto di vista della funzionalità e del design è anche una cosa più logica però noi su Linux siamo abituati a utilizzare altri sistemi di solito per aggiornare quindi per noi andava anche bene fare gli aggiornamenti lì con l'App Center come per esempio possiamo fare su KDR su SoftSend e su Discord va bene comunque decisioni passiamo adesso a parlare invece di un'altra distribuzione che si sta per aggiornare alla versione successiva ormai manca poco e sto parlando di OpenSUSE Reap la versione quella stabile diciamo così di OpenSUSE che sta raggiungendo la fase beta per la versione 15.6 o meglio ha raggiunto la fase beta per la versione 15.6 OpenSUSE Reap 15.6 viene costruito sulla base di SUS Linux Enterprise 15 Service Pack 6 la beta ha piena compatibilità con le versioni Enterprise di Enterprise Linux e si concentra sulla stabilità e sull'offrire a tutti coloro che ne desiderano una distribuzione diciamo orientata verso la distribuzione aziendale diciamo così un aspetto fondamentale di GIP 15.6 è ovviamente la versione del kernel Linux 6.4 che da ampi miglioramenti di prestazioni per quanto riguarda le prestazioni generali di sistema il supporto per un hardware più recente ovviamente oltre al nuovo kernel sono state aggiornate anche alcune librerie come GripC Systemd aggiornamenti dei firmware eccetera eccetera andatevi poi a leggere tutto l'articolo che ho postato sul blog lato desktop environment troviamo invece KDE Plasma che viene aggiornata alla versione 5.15 .12 e GNOME che viene aggiornata alla versione 45 ci sono poi alcuni miglioramenti interessanti per lo stack audio perché la gestione dell'audio ha ricevuto un doppio aggiornamento con Pulse Audio che viene aggiornata alla versione 17.0 che presenta hardware migliorato del supporto Bluetooth e l'aggiornamento Pipewire che passa alla versione 1.0.3 che espande le sue capacità con nuove funzionalità e ne migliora la compatibilità con Pulse Audio e Jack quindi SUS si conferma una distribuzione solida si conferma una distribuzione che però strizza un po' l'occhio alle nuove funzionalità quindi se volete qualcosa non branding edge ma stabile e giusto con però alcune tutta diciamo tutta l'architettura base che viene comunque mantenuta aggiornata OpenSUS potrebbe fare il caso vostro io ogni tanto ci provo utilizzare OpenSUS per poi migrare verso altre distribuzioni però so che molti di voi lettori che mi seguono sono utenti affezionati di OpenSUS e ne decantano le virtù devo vedere se riesco a farmi ad auto impormi un periodo lungo su OpenSUS magari nei prossimi mesi vedrò di fare qualche approfondimento al riguardo se riuscirò in queste imprese di installare come distribuzione unica e solo sul mio disco quindi niente macchine virtuali per magari vedere come si è evoluta nel tempo OpenSUS se posso consigliarvela come distribuzione degli driver ma adesso finiamo la puntata con i tre argomenti che vi dicevo prima riguardanti il mondo Microsoft la prima notizia riguarda l'interruzione del supporto per l'applicazione Android su Windows 11 Microsoft e Amazon hanno annunciato che al partire dal 6 marzo quindi è una notizia vecchia se mi state seguendo questa puntata del blog Windows 11 non supporterà più l'applicazione Android per chi non lo sapesse il supporto all'applicazione Android in Windows 11 chiamato Windows Subsystem for Android WSA era garantito mediante l'app store di Amazon quindi lo store applicazioni gestito da Amazon che troviamo ad esempio preinstallato sulla file TV Stick perché hanno deciso di abbandonare il supporto all'applicazione Android su Windows 11 ci sono stati alcuni tweet da parte di alcuni ex sviluppatori che hanno chiarito il mistero essenzialmente non c'erano applicazioni presenti su questo store erano poche le applicazioni la gente ovviamente necessita di applicazioni altrimenti che fa che me lo attivo a fare Windows Subsystem per Android se poi non ho applicazioni e quelle che ci sono non sono manco aggiornate beh e quindi di conseguenza si sono accorti quelli di di Microsoft di smetterne il supporto perché tanto alla fine la gente non lo utilizzava per chi avesse già avesse in precedenza installato abilitato il Windows Subsystem per Android beh dopo il 5 marzo 2025 Amazon ha su Windows 11 e tutte le applicazioni scaricate adesso non saranno più sopportate quindi non funzionerà più niente quindi potete iniziare a liberare spazio sulla vostra installazione di Windows rimuovendo il tutto peccato non lo so io non ho mai provato questa funzionalità su su Windows ed onestamente non conosco nemmeno persone che abbiano mai provata dal vivo quindi diciamoci Microsoft ha voluto fare questo esperimento chissà quanto gli è costato in termini economici per via dell'accordo con con Amazon sarei davvero sono davvero curioso di capire dietro le quinte di questa di questa mossa per capire appunto se ci sono stato un esborso di soldi e quant'altro vabbè comunque ci ha provato l'altra notizia riguardante Windows riguarda una videoguida che ho postato sul blog anzi sul canale YouTube di Marcosbox che vi spiega come utilizzare Winget su Windows 10 e Windows 11 Winget che cos'è è un un comando che si appoggia su una funzionalità presente su sistemi Windows 10 e Windows 11 ormai da diversi anni che vi consente di installare tramite terminale applicazioni presenti sia su Microsoft Store che anche applicazioni presenti in un apposito riposito che è stato creato di applicazioni compatibili direttamente da riga di comando su Windows 10 e su Windows 11 così come facciamo noi utenti Linux sulle nostre distribuzioni è una funzionalità interessante che è stata integrata all'interno di Windows 10 e Windows 11 che io utilizzo utilizzo in maniera in maniera importante sia per me stesso che per quando mi riguarda quando mi trovo a dover fare manutenzioni o a smanettare con computer altrui quando mi devo mettere lì a installare applicativi o aggiornare diversi applicativi lancio Winget e gestisco in maniera più semplice e immediata di tutto vi invito a guardare i video a approfondimento dove vi faccio vedere come funziona Winget vi faccio vedere i comandi base e vi faccio vedere quali sono le caratteristiche più importanti di questa funzionalità presente in Microsoft Windows e come ultima notizia di questa puntata c'è una notizia riguardante la guida postata da Luca intitolata guida un'installazione sensata di Windows 11 Luca che cosa ha fatto Luca ha spiegato in questa guida come poter installare Windows 11 bypassando i requisiti minimi di CPU e di TMP e poi di fare alcune operazioni come per esempio non utilizzare l'account Microsoft ripulire Windows da tutte quelle applicazioni preinstallate Netflix TikTok chi più ne ha più ne metta e come come velocizzare insomma il nostro sistema trovate l'articolo guida sulle pagine del blog dategli dare un'occhiata che magari potrebbe essere utile in futuro qualora avreste avete non avete non riesco neanche alcuni che arrivi a prestazione qualora avete la necessità avreste la necessità in futuro di andare a installare Windows su un vostro computer o un computer di un vostro parente se gli volete particolarmente male beh con questa ultima notizia si conclude qui questa 174esima puntata del podcast di Marcosbox io come sempre vi invito a iscrivervi numerosi sui principali social mi trovate su Facebook su X mi trovate su YouTube mi trovate sui principali piattaforme di podcasting mi trovate con mio profilo persone su LinkedIn mi trovate su Mastodon e soprattutto mi trovate su Telegram dove c'è un diciamo così un canale principale che potete utilizzare a modo di feed RSS la community Telegram alla quale mi invito a iscrivervi numerosi perché non si parla soltanto di Linux e trovate anche un canale Telegram dedicato all'offerta di Marcosbox che sono link referral Amazon sapete come funziona se acquistate da un link referral Amazon mi riconosce una percentuale potete inoltre supportare il blog anche acquistando rinnovando la vostra VPN su NordVPN quindi se avete la necessità di acquistare un servizio VPN su Marcosbox trovate un apposito link con il link referral di NordVPN che magari vi lascio anche qui in calcio al video e nella puntata del podcast lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riaggiorniamo la prossima settimana con le prossime notizie dal mondo del software libero open source e forse anche da Windows ciao ciao